un buco di bilancio, perché i documenti pubblici, la contabilità pubblica sono documenti ufficiali, rigorosi. E secondo lei non è vero che ci sono questi soldi che vanno trovati? Sentiamo anche Annalisa. Oggi la notizia del giorno, Presidente, è che in Italia sei castelli, castelli, sono stati ristrutturati proprio grazie... I castelli, tre in Piemonte, sono stati ristrutturati grazie al superbonus del 110%. Allora io voglio farle una domanda, le posso fare una domanda. Siccome lei oggi è anche un volto del fronte progressista, pur avendo governato per una parentesi con la destra, però in tanti ripongono in lei fiducia come leader della sinistra, secondo lei la norma sul superbonus poteva essere scritta meglio almeno per prevedere dei limiti di reddito? Perché in effetti in tanti magari possessori di una, due, tre case si sono ristrutturati la casa a spese della collettività, cioè degli operai, dei pensionati, di quelli che le seconde e le terze case non le hanno. Secondo lei, almeno questa piccola autocritica, si poteva scrivere meglio per porre limiti di reddito e non far sì che i ricchi si ristrutturino la casa a spese di tutti i miei contribuenti? Dottoressa, le spiego proprio con un esempio semplice. Lei ha un condominio, in condominio sono persone agiate e persone che non hanno la disponibilità, non può fare la distinzione, se no quel condominio non verrà mai rigenerato. Grazie. Grazie.